Partiti 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 Solimvitus l'assalto in vantaggio tutti bene eccezione fatta per Rajasthan che in fase di atterraggio ha avuto un'incertezza ma... ora si riprende immediatamente sulla piegata di sinistra Solimvitus e Ognonduboschi insieme su Darsaheddin terza poi ancora in preser chiude Rajasthan passata anche la siepe della piagata di sinistra Adesso il bruk quello che andremo ad affrontare sempre con la coppia, Union Dubosc all'estero di Sol Invictus, poi ancora Impresor, ancora Dar Said con l'altra Giubba Fuchsia e Rajasthan che si riporta più stretto contatto. Diagonale lunga, si inizia leggermente ad incrementare la cadenza quando si va in vista del Talus, Sol Invictus insieme ad Union Dubosc, poi ancora Dar Said, Impresor al suo interno e Rajasthan sempre in coda a contatto. E' il muro, il prossimo che dovranno affrontare i cavalli, sempre con Sol Invictus e Union Dubosc che da parecchio tempo stanno facendo sempre a coppia, Impresor a contatto così come Dar Said e a chiudere Rajasthan. L'Arginello sbarrato adesso, Sol Invictus, Union Dubosc, al loro interno Rajasthan che si fa sotto avendo scavalcato Dar Said, poi ancora Impresor. Si va quindi a completamento della diagonale lunga con Rajasthan che rompe l'Indugi e si porta in vantaggio in pochissimi tempi di galoppo sul compagno Sol Invictus, Dar Said e Union Dubosc alle prese su Impresor. Tutti lì comunque il gruppettino si è ricompattato ulteriormente e Rajasthan però comincia ad aumentare i giri su Sol Invictus, Impresor a largo di Union Dubosc a chiudere Dar Said. Rajasthan all'attacco della siepe in vantaggio sul compagno Sol Invictus, Impresor che invece avanza tra gli altri due compagni di scuderia, mentre Dar Said da dietro rompe l'Indugi e a sua volta si fa sotto. Il seppone, quello che vanno ad affrontare Rajasthan e Sol Invictus, Impresor e Dar Said, Union Dubosc invece è in difficoltà. Sol Invictus ritorna su Rajasthan all'interno di Dar Said che si fa sotto, poi Impresor. Un pulischio per Rajasthan, non pulito neanche Impresor. Quello che è saltato meglio è Dar Said che infatti ne approfitta per portarsi in vantaggio su Sol Invictus. Dar Said da leader su Sol Invictus, Impresor e Rajasthan con i due compagni di Namagog che hanno perso terreno. Siamo ormai in retta d'arrivo, un solo ostacolo ad acquirre fine, l'ultima fence per Dar Said che è in vantaggio. Vediamo come l'affronta, bene, bene anche Impresor che ci prova, ritorna sotto anche Rajasthan all'argo di tutti. Dar Said da leader rispetto ad Impresor e all'argo di tutti, Rajasthan nell'ultimo tratto. Dar Said che non si prende e viene a vincere il Durini respingendo Impresor e poi ancora Rajasthan. Bel successo e non si può certo dire che è stata una sorpresa. Davide Satalia in sella per il signor Favaro ai colori e al treni. Davide Satalia in sella per il signor Favaro ai colori e al treni.